Occhi alzati al cielo per godere dello spettacolo delle stelle cadenti. Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre dal cielo si potrà ammirare lo sciamo delle geminidi. L'evento è iniziato lo scorso 4 dicembre e si concluderà al 17, ma nel weekend lo spettacolo sarà assicurato. Si prevede che le meteore saranno particolarmente visibili intorno alle 2 del mattino, quando la costellazione dei gemelli da cui sembrano provenire è più alta nel cielo. A interferire con la visione ci potrebbe essere la luce della Luna, particolarmente brillante in questi giorni. Secondo gli esperti sono previste 50 stelle cadenti all'ora.